Sono innumerevoli le strategie adottate dai malviventi per carpire la fiducia delle loro vittime. Le vittime predilette sono spesso gli anziani. I truffatori fanno leva sui sentimenti più profondi e viscerali, come l'amore di una madre per i propri figli, ma anche sulla fragilità fisica di chi, come gli anziani, si sente ormai relegato ai margini della società, che corre troppo veloce. Subitole e fantasiose le tecniche adottate dai truffatori, conoscerli è il primo passo per difendersene. Il Comune di Campobasso, su questo delicato problema, ha una sua strategia. È pronto a partire con il progetto Sentinella Antitruffa. Il progetto, attraverso il Fondo per la Prevenzione di Contrasto delle Truffe agli Anziani, del Ministero dell'Interno e Prefettura di Campobasso, ha come interesse generale la promozione della cultura della sicurezza in favore degli anziani. L'obiettivo del progetto è quello di fornire informazioni, sostegno psicologico e tecniche base di autodifesa alle persone anziane, al fine di riconoscere, prevenire e difendersi dalle truffe e aggressioni, anche online. Il corso di Sentinella Antitruffa ha lo scopo di fornire strumenti preventivi e difensivi a coloro che anche per solitudine e senilità potrebbero diventare vittime prescelte dai truffatori. La formazione prevede il supporto di personale docente specializzato ed operatori del sociale, anche del terzo settore, con l'intento di aprire dei focus sulle tipologie di reato a cui l'anziano è maggiormente esposto, come la truffa, i raggiri e furti in abitazione. Il percorso formativo partirà il 18 gennaio ed è stimato in dieci incontri da due ore ciascuno. Le lezioni si terranno presso la sede dell'Università della Terzietà di Campobasso.